Il sentimentale è in cima e alcuni sono pronti a giurare che stiano prendendo sul serio. Michelle Unzichere e Alessandro Carollo sono follemente innamorati, e ogni volta che riescono a liberarsi dagli impegni professionali, si ritagliano momenti esclusivi per loro. La coppia è stata nuovamente fotografata insieme, tra effusioni e sorrisi. Le immagini della coppia in copertina sono state pubblicate dal settimanale Gente. Michelle Unzichere e il suo nuovo compagno Alessandro Carollo non mostrano remore davanti ai fotografi. Una volta usciti allo scoperto, la 46enne e il 41enne dimostrano tutta la loro voglia di avvicinarsi l'uno all'altro con grande intimità. Brillano, legati da un cuore che rende speciali i momenti trascorsi insieme, viaggiando per amore tra Roma e Milano, Jonathan Kashanian è stato il cupido che li ha presentati. L'italo-israeliano, opinionista, stilista e influencer, ex partecipante al Grande Fratello 4, è stato ringraziato calorosamente sui social dall'osteopata romano, uno dei più stimati a livello nazionale, con uno studio nella città eterna, un altro nella capitale Lombarda e uno anche a Napoli. Tutto è accaduto prima dell'estate, quando la passione li ha travolti, e ora la loro relazione è pienamente esposta alla luce del giorno.